Partiamo da questo bellissimo primo tempo, giocato, anzi dominato dal Pescara, con autorità, facendo anche un bel calcio e trovando un gol a testa per tutto il tridente offensivo. Immagino che sia molto contento, forse un po' meno del calo mentale della ripresa. Abbiamo fatto un primo tempo buono, aggredendo, anche perché loro cercavano di far circolare la palla. Poi secondo tempo mentalmente, nonostante le sollecitazioni alla fine del primo tempo di non mollare l'attenzione e la concentrazione, non mi sono piaciuti i miei, ma come sono entrati, poca voglia di correre, soprattutto c'erano spazi davanti. Non hanno fatto subito bene Ferrari, Rauti e Dursi. Dursi e Rauti hanno gamba, erano le situazioni congeniali a loro e quindi un po' ci siamo adeguati. Con i cambi siamo un po' migliorati da questo punto di vista, però loro in realtà hanno cambiato totalmente atteggiamento. Hanno schierato 4-5 persone davanti, avevano fisicità, giocavano questi palloni lunghi. Noi abbiamo sempre chiuso bene, però c'è mancata spesso, quando chiudi l'azione difensiva, la capacità di riproporre rapidamente gioco e in questo dobbiamo essere più coinvolti tutti, centrocampisti, difensori, anche gli attaccanti. E allora abbiamo dato un'altra impressione al secondo tempo. Questo è un secondo tempo che rivedremo, perché loro sanno quello che avremmo dovuto fare. Non è contento neanche oggi? No, non è che non sono contento, è che bisogna fare sempre le stesse cose. Ecco, qual è il motivo. Allora, io adesso provo già a fare la classica domanda mia in chiave carrarese, così si arrabbia per le eventuali scelte. Questo Ferrari, l'abbiamo ascoltato in settimana nella nostra trasmissione a Cenacona, ha detto, io sono pronto se il mister mi chiede di fare due partite anche in 72 ore. Lei invece a dicembre aveva detto che per struttura fisica preferiva non fargli fare due partite consecutive. Questo Ferrari non può non farle. No, ma guardate che Ferrari adesso per il percorso fisico di lavoro che ha fatto, è un altro giocatore rispetto a quello di prima, ma si vede anche in campo, giocatore più mobile, più agile, poi lui determinate qualità in aria di rigore ce li ha sempre. Però oggi mi è sembrato, anche lui ha pagato nel secondo tempo come Rauti e Duzzi. Abbiamo capito, è arrabbiato. Poco voglio di correre. No, ma io sottolineo le cose che vanno migliorate, perché ci mancherebbe altro. Le dico una cosa. Però abbiamo anche gestito i cambi, perché fra te giorni si rigioca. Le dico una cosa, Auteri, poco fa il presidente Sebastiani ha detto che tra questa sera e domani arriverà Cernigoi, che è l'attaccante che diceva lei in conferenza stampa ieri. Insomma, che ci dice su questo attaccante, caratteristiche? È una prima punta, un giocatore, non un velocista sicuramente, però ci serviva un giocatore così per completare il reparto offensivo. Non simile a De Marche? No, sono due giocatori diversi, un giocatore che sa giocare di spalle, due giocatori che attacca bene l'area di rigore. Un giocatore giovane che non ha ancora espresso il proprio potenziale. Mi auguro che glielo possiamo tirare fuori. Rauti ora farà l'esterno nelle sue gerarchie con Cernigoi e Ferrari centrali? Ma Rauti è un giocatore che può giocare dappertutto, può giocare sotto punta, può giocare a destra, a sinistra. Sta facendo bene, ma Rauti è un altro giocatore giovane che può migliorare tanto. Studio per il tecnico Auteri e solo un secondo però Massimo, perché devo dare l'auricolare all'allenatore del Pescara. Eccolo qui, quindi solo un secondo e Auteri vi può ascoltare. Vai Massimo. Allora, intanto Fabio Ferraresi. Io mister mi ricollego alla domanda e la considerazione che ho fatto prima col Presidente. Lei nella sua storia, più o meno, mi ricordo, credo di non sbagliare, ha sempre allenato più o meno gruppi abbastanza, non dico vecchi, ma esperti. Allenare questo gruppo adesso, in questo momento, con tanti ragazzi, che differenze trova fondamentalmente nella gestione della settimana? Perché comunque sicuramente qualcosina cambia. Può incidere di più lei con le sue idee, con il lavoro, senza gestire sempre magari il giocatore un po' più anziano? No, vabbè, ma nella mia carriera mi è capitato di allenare anche tanti ragazzi giovani che ho fatto giocare perché avevano qualità e struttura fisica e tecnica, ma nessun tipo di problema. Qua sono dei ragazzi che hanno voglia di lavorare, che sono delle spugne perché hanno voglia di apprendere, ma a parte i giovani, anche i vecchi sono così, per cui nessuna differenza, niente, continuiamo questo percorso che, ripeto, nel ritorno deve essere migliore rispetto a quello che abbiamo fatto all'andata. Ancora studio? Ecco, io volevo fare una domanda perché è chiaro che bisogna sempre lavorare sugli errori, mister, perché lei è soddisfatto sicuramente del primo tempo, nel secondo probabilmente la squadra ha smesso di fare anche il minimo sindacale. Perché? Ma no, ma per un motivo molto semplice, non siamo stati bravi a leggere, loro hanno cominciato a giocare palloni subito, lunghi, profondi, hanno fisicità davanti, si schieravano con tre o quattro giocatori davanti e quindi noi abbiamo sempre chiuso bene, però non sempre siamo stati bravissimi nell'evitare, dopo la chiusura difensiva, nell'evitare la prima pressione e andare a giocare a campo aperto. Lo abbiamo fatto nel secondo tempo una decina di volte, avremmo dovuto farlo dieci volte moltiplicato per dieci perché c'erano le possibilità per farlo e in questo non siamo stati bravi, siamo un po' accontentati di gestire i risultati ed è chiaro che quando pensi di gestire ti snaturi e questo non dobbiamo fare, non dobbiamo rinunciare a giocare. L'ultima, Massimo, perché deve lasciarci... Sì, velocemente, proprio per inquadrare ancora meglio le caratteristiche di Cernigoi, lei è stato chiarissimo, diciamo che un giocatore più incline a giocare con la squadra e per la squadra? È una prima punta, è un giocatore che ha struttura fisica, forte nel gioco aereo, protezione della palla, non è un velocista, abbiamo preso perché è il giocatore che ci serviva. Chiudiamo rapidamente con Auteri, con un flash a mercoledì per la Carrarese, come sta Drudi e quanto spera che questi tamponi siano negativi? Ma io sono quasi sicuro che i tamponi saranno negativi perché poi i tre ragazzi non hanno proprio sintomi, già siamo operativi da questo punto di vista facendo i controlli, Drudi vedremo. Sì o più no? Più no.